Amici di Maria De Filippi, Federica Carta sbarca Zero Only Fans, ecco il particolare motivo della sua scelta. Federica Carta, la famosissima ex allieva della scuola di amici ha appena comunicato ai suoi fan di aver aperto un profilo sulla famosa piattaforma Zero Only Fans. La giovane cantante romana di origini sarde che si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando al talent show di Maria De Filippi, dove si è classificata terza. Una volta terminata l'esperienza, Federica ha avuto modo di proseguire il suo sogno insieme al cantante Shade incidendo la canzone irraggiungibile. La collaborazione tra i due ragazzi ha portato il loro grande successo, ottenendo addirittura un disco d'oro e ben tre dischi di platino. I due artisti hanno poi partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2019, presentando il brano senza farlo apposta che Anche esso, ha ottenuto grande successo da parte di tutto il pubblico. Il 6 marzo del 2020 è poi uscito anche Bullshit. Il primo singolo di ciò che avrebbe preceduto l'uscita del quarto album della cantante. Questo però non è mai arrivati, nonostante siano usciti diversi singoli. Numerosi i dubbi e numerose le domande dei fans che chiedevano che fine avesse fatto la loro cantante del cuore. A sorprendere è stata proprio Federica Carta che, attraverso il canale Twitter, ha comunicato l'intenzione di sbarcare sulla piattaforma Zero Only Fans per un particolare motivo. Ecco il comunicato. Ed ecco anche una foto che mostra il cambiamento fisico dell'ex allieva di Amici.